Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Questa mattina mi ha scritto il Multistore del Zaza tramite Telegram dicendomi Gesualdo è pronto già disponibile tra pochissimo il nuovo Mi Pad 4, il nuovo insomma tablet di Xiaomi. Decidere ancora se questi tipo di dispositivi siano validi nel nostro mercato oppure no è difficile dirvelo. Io personalmente lo utilizzo spesso, utilizzo un iPad che però quasi normalmente lo ha sempre mia moglie, ho questo BQ che ormai è un po' di tempo, l'ho pagato veramente una stipidagine su Amazon e funziona ancora molto bene però ovviamente cercavo qualcosa di più potente, cercavo addirittura il Mi Pad 3 ma non ero più riuscito a trovarlo. Finalmente anche Xiaomi ha deciso di produrre una nuova versione del proprio tablet dove è andata a migliorare un po' tutte quelle che erano le caratteristiche della versione precedente mantenendo comunque un bel display e delle misure più piccole. Ovviamente mi sono stampato già la scheda tecnica che troverete facilmente su internet, l'ho scaricata direttamente da GSM Arena e andiamo a vederlo un po' da vicino almeno per quelle che sono le foto e ovviamente tra qualche settimana ve ne porterò un video completo perché è un tablet che voglio utilizzare personalmente. Ovvio cerco un tablet Xiaomi e non quello di altre aziende perché? Perché Xiaomi è una di quelle poche ditte che poi segue a livello software questi dispositivi, non li lascia morire dopo un anno e quindi acquistando un prodotto senza spendere centinaia e centinaia di euro, ci portiamo a casa comunque un dispositivo sempre aggiornato. Un po' come è successo fino ad ora, se riesco a tirarlo su della tavola, con questo BQ. Ma andiamo a vedere come è composto questo nuovo Mi Pad 4 e ovviamente dopo vi dirò quelle che dovrebbero essere le cifre cinesi e non posso dirvi ancora con precisione invece quelli che saranno i prezzi qui in Italia. Per primo motivo perché non so se arriverà a livello proprio ufficiale Xiaomi in Italia e secondo perché ovviamente essendo appena uscito ancora la conversione, tasse e quant'altro da parte del Multistore de Zaza non sono ancora complete. Ma vediamolo insieme. Partiamo dal display che è un 8 pollici, 1200 x 1920 in rapporto 16 decimi con 283 ppi. Un pannello non troppo grande, quindi giusto per poter utilizzarlo sia a livello lavorativo che a casa per navigare su internet e quant'altro. sicuramente è un IPS, quindi un LCD che credo sia di discreta buona qualità, almeno quello di Mi Pad 3 mi era piaciuto come pannello, ma soprattutto quello che è riuscito a fare Xiaomi con questo device è ad andare ad ottimizzare le cornici, quindi sia lateralmente che sopra e sotto sembra un tablet decisamente più facile da tenere in mano e anche facile da trasportare. Ma sicuramente un'altra caratteristica molto interessante di questo Mi Pad 4 è il processore Snapdragon 660 affiancato da 3 o 4 giga di RAM o 32 e 64 giga di memoria interna. Sapete benissimo no? Quanto a me questo processore è sempre piaciuto. Ma se poi è affiancato anche da una batteria da 6000 mAh ragazzi, con ricarica rapida e attacco Type-C, beh il tutto è davvero molto molto completo. Un processore potente, prestante, con consumi sicuramente molto contenuti e una batteria ampia da 6000 mAh dovrebbero permettere a questo Mi Pad 4 davvero di farne tantissime ore di utilizzo, arrivando a sera senza nessun problema, indipendentemente da quello che sarà il nostro utilizzo. Ovviamente ci sono anche delle fotocamere, una 13 megapixel posteriore con apertura f2.0, mentre nella parte frontale abbiamo una 5 megapixel con apertura f2.0, che quindi dovrebbero permettere insomma di poter tranquillamente effettuare delle videochiamate in Skype, in WhatsApp, eventualmente se metterete dentro una SIM, perché esiste anche la versione con appunto la possibilità di aggiungere una nano SIM al suo interno, quindi insomma anche a livello multimediale non è affatto un malaccio. Ovvio ci sarà da provarlo, ma così almeno sulla carta per un tablet va più che bene. Ovviamente la scheda tecnica non finisce qui, abbiamo il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi doppia banda, abbiamo ovviamente come già detto la Type-C per la ricarica, suppongo sia anche rapida visto i 6000 mAh e poi abbiamo ovviamente il GPS con GLONASS, insomma con tutti i satelliti disponibili per utilizzarlo anche come navigatore. E tranquilli ragazzi perché non è stato nemmeno rimosso l'attacco jack 3.5 per le cuffiette, perché almeno qui a scheda tecnica è presente anche quello, quindi non dovremmo utilizzare adattatori strani come su uno smartphone e ci mancherebbe visto insomma le misure, vuoi dirmi che non ci stava un attacco, quindi molto ma molto bene. I colori disponibili di questo Mi Pad 4 sono il nero, il black e anche il rose gold, che probabilmente sarà questa la versione che riceverò per averla immediatamente e poterne fare una recensione, solitamente colore nero, arriva sempre dopo, non ho ben capito il perché. Detto questo ragazzi, questo Mi Pad 4 costa circa un 200 euro, poi ovviamente andrà importato qui in Italia, non so se arriverà nel nostro territorio, non so se c'è la banda 20, non credo, ma comunque risulta sicuramente un dispositivo molto interessante e a questa cifra, con queste caratteristiche, non comprerete nulla, ma nulla nel nostro territorio. Snapdragon 660, 4 giga di RAM, le MIUI 9.0 che poi sicuramente arriverà nella versione 10 su un tablet, Xiaomi è davvero tantissima roba. Beh ragazzi per oggi è proprio tutto, fatemi sapere qui sotto tra i commenti se anche voi utilizzate ancora i tablet, se secondo voi hanno ancora senso, se vengono utilizzati, se avete intenzione di acquistarne uno, soprattutto Xiaomi, visto il prezzo, e io vi auguro una buona giornata, vi chiedo ovviamente di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e seguirmi su tutti i social, e noi ci vediamo tra qualche giorno per la recensione completa di lui, LG G7, e c'è anche VQ Aquaris X2 Pro per morire a qualche parte, ma arriverà anche lui prestissimo. Ciao a tutti!